Secondo successo in altrettante partite di seconda fase per l'Ame, scuola baschietta Rezzo, che piega la resistenza dell'ABC Ricami Montale con il punteggio di 69-62 al termine di una gara combattuta. Sin dalle prime battute di gioco i pistoiesi fanno valere la loro fisicità ed energia, imbrigliando l'attacco a retino. Dopo il 7-5 al quinto minuto l'ABC Ricami mette la freccia e supera la SBA. Mati è il riferimento della squadra di Coccia della Rosa, che al primo mini-intervallo è avanti 18-15. Non cambia il ritmo nel secondo parziale, dove le percentuali realizzate rimangono basse, condizionando il punteggio che a riposo vede l'Ame in avanti 28-27. Da segnalare tra l'altro un'infortunia alla caviglia per Pipisca, che però stringerà i denti per tornare in campo. Al rientro dagli spogliatoi il ritmo della gara comincia ad alzarsi. Gio Metti ha un impatto positivo, trovando punti preziosi che permettono agli Amaranto di recuperare. Dopo un inizio di quarto non facile, poi ci pensano Rossi e Pipisca a permettere alla SBA di tenere la testa avanti sul 49-45 al trentesimo. L'allungo decisivo arriva nella prima parte dell'ultimo quarto, quando l'Arezzo, orchestrato da un determinato ghini con la coppia Rossi-Pipisca come finalizzatori, raggiunge la doppia cifra di vantaggio. Montale prova a rispondere a Devotti, Nevicelli e Gengale, ma il quintetto di coach Evangelisti riesce ad amministrare il vantaggio, conquistando due punti molto preziosi in questa seconda fase. Alla fine il tabellone indica 69-62 per l'Amen, che raggiunge quota a quattro punti in classifica, con due partite all'attivo facendo un altro passo in avanti per evitare i play-out. Non ci sarà neanche il tempo di rifiattare perché mercoledì Iamaranto saranno impegnati per il turno infrasettimanale sul campo della Synergy Valdarno, per quello che sarà il terzo derby di stagione dopo i due della prima fase. Prima di tutto voglio ringraziare sia lui che Giovanni Ghini, perché nonostante problemi fisici, quando gli ho chiesto, anche di alto livello, perché Pipisca si è scavigliato, quindi quando gli ho chiesto se voleva rientrare mi ha detto assolutamente sì. Quindi questo vuol dire attaccamento alla maglia, vuol dire spirito di sacrificio nella squadra, vuol dire che si vuol mettere tutto quello che si ha a disposizione della squadra. Io penso che questo sia il primo passo per salvarti nei play-out, per creare una squadra. E oggi alla fine, giocando non benissimo, sbagliando tanto, siamo riusciti a vincere qui in casa, ma questa è una partita che per noi è fondamentale. Un banco di prova eccezionale, una formazione questa che sicuramente sarà una nel novero finale delle concorrenti alla vittoria finale, una delle presenti. No, ma sicuramente loro sono una squadra di giovani, ma sono giovani di alto livello, cioè hanno prospetti da Serie A, quindi è vero che sono giovani, ma è anche vero che hanno qualità. Quindi cambiano su tutti i blocchi, hanno fisicità sugli esterni e ti possono mettere in difficoltà. Noi abbiamo cercato di fare falli ai loro lunghi, ci siamo riusciti, alla fine non avevano più lunghi, cioè in campo erano tutti piccoli, li abbiamo attaccati in post basso, insomma, alla fine quello a pagare.